Cari amici, Sandro Alessi vi parla dal Teatro Ghione, un teatro stupendo, bellissimo, una bomboniera nel centro di Roma, due passi dalla cupola di San Pietro, quindi vi ho detto tutto. Siamo tornati perché c'è uno spettacolo che ci piace vedere e di cui ci piace parlarne, insomma. Sto parlando di Caravaggio il maledetto. Accanto a me vedete subito gli interpreti che io vado a presentare, Francesca Valtorta. Molto piacere, ciao. Abbiamo Primo Reggiani, ciao a tutti. Fabrizio Bordignonne, ricordiamo la regia di Ferdinando Ceriani, qui è la storia di un Caravaggio che arriva proprio agli ultimi attimi di vita, insomma. Ecco il Caravaggio, giusto? Tu sei? Sì, dovrei essere io. Esatto, si vede, si vede. Esatto, esatto. Allora, tu, praticamente tutto parte da questo arrivo, così, su questa riva che si dice sia di, ma non siamo sicuri dove è sbarcato. No, no, vabbè. In realtà la vita di Caravaggio è stata tormentata e ha girato praticamente tutta l'Italia, è scappato da Milano, poi è andato a Malta, poi è ritorno da Roma, poi è scappato, è andato a Napoli. Noi ci siamo soffermati nella parte romana, quindi anche il suo periodo artistico romano, nello spettacolo qui partiamo dalla fine, nel senso, raccontiamo l'ultima settimana di vita dove ipoteticamente crediamo che lui sia stato su questa spiaggia ed è stato trovato lì, poi, a Napoli, nella realtà, e viene recuperato da due pescatori e lui in questi ultimi giorni, tra febbre, deliri, tormenti e ripensamenti della sua vita, rivive le sue opere e alcuni momenti della sua vita. Io volevo chiedere, Francesca, chiaramente interpreta vari personaggi femminili, perché da quello che ho capito, comunque, adesso ci fermeremo anche a vedere lo spettacolo, si torna un po' indietro nel tempo, nei vari momenti di vita di Caravaggio. Sì, non c'è un andamento cronologico, appunto, Caravaggio ricorda dei momenti importanti della sua vita e quindi noi due, che siamo inizialmente due pescatori, ci trasformiamo in diversi personaggi e io divento l'Ena, che è una figura, diciamo, molto importante nella vita di Caravaggio, sia umanamente, perché, insomma, è stata la sua amante, probabilmente c'è stato un amore fra i due, ma soprattutto è la sua modella principale, quindi un personaggio del popolo che viene, come dire, esaltato attraverso, appunto, i suoi quadri in immagini sacre e quindi questa è stata una rivoluzione enorme nel campo dell'arte, il personaggio del popolo che viene elevato e quindi, insomma, abbiamo cercato di rappresentare entrambe le cose, cioè sia il rapporto umano fra i due, ma anche questi momenti in cui, quasi astratti, se vogliamo. Sì, quindi c'è l'amore di Caravaggio, quindi abbiamo parlato di Elena, diciamo, dell'ispiratrice delle sue madonne anche, quindi, e c'è anche un mecenate nella storia di Caravaggio, molto importante, ecco, passo un attimo di qua, è piacere. Il Cardinal del Monte. Il Cardinal del Monte, che comunque è stato molto importante per l'arte di Caravaggio. Assolutamente, assolutamente. Beh, l'ha scoperto, l'ha scoperto, è stato il suo mecenate e ovviamente cercava di indirizzarlo a suo piacimento, ma Caravaggio, essendo uno spirito libero, non si lasciava imprigionare così facilmente. Quindi sul palcoscenico si vedrà un bel duello verbale, molto forte tra i due. Allora, primo, un'atmosfera vedo comunque molto particolare, molto bella, molto soffusa, proprio per ricordare quello che è stata, un po' questi attimi di vita, questi momenti importanti e non perché poi comunque vi rivolgete un po' al periodo romano, come mai detto. Sì, beh, per cercare di ritrovare quei sapori anche che lui usava come colori, come temperatura proprio dei suoi quadri, quindi poi ora tu la vedi così, ma in realtà ci saranno molte più, sarà tutto più luminoso, più colorato. Dietro di noi compariranno le sue opere, non possiamo svelare troppo. Quindi è anche multimediale, potremmo dire, anche se appaiono le opere, insomma, sono questi flashback che comunque danno un po' un taglio cinematografico. Sì, ma lo sai, il taglio cinematografico lo dà lui ai quadri. Insomma, io poi prima dello spettacolo sono andato anche a rivedermi tutte le cose qui che ci sono a Roma meravigliose e vederle dopo aver vissuto lo spettacolo è completamente un'altra cosa, ma ti rendi conto che sono veramente delle immagini che potrebbero stare dentro un film, proprio così come sono state dipinte. Ecco, questo è il nostro principale obiettivo. Cioè, io spero che lo spettatore venga qui e la mattina dopo voglia andare a rivedere le opere in giro per Roma. Sarebbe magnifico. Sarebbe la cosa... Sì, perché è stato un precursore. Ha anticipato il neorealismo, ha usato le facce vere della povera gente per rappresentare i santi. E questa è una cosa innovativa, moderna, è la luce. Francesca, quanto è stata importante la donna, l'amante, insomma, a fianco di un uomo così? Perché poi si dice che dietro un grande uomo c'è sempre una grande donna. O è il contrario? Ma allora, non ci sono dati certi su che effettivamente importanza avesse questa donna. Quindi noi ci siamo immaginati che ne avesse molta. E quindi abbiamo, come dire, giocato su questo rapporto di grande tensione tra i due, erotica, ma non solo, appunto. Perché davvero lei è stata l'ispiratrice, in qualche modo, per lui. E' come se prendesse su di sé poi tutto il popolo, cioè lei rappresenta in qualche modo tutti i personaggi del popolo che lui ha rappresentato. Quindi io sono in qualche modo l'ena, ma anche un simbolo, in qualche modo, della rivoluzione che lui ha portato nell'arte. Beh, allora, noi vi abbiamo cercato di illustrare quello che succede su questo parco. Lo potete vedere fino a domenica 22, quindi mi raccomando, al Teatro Ghione, qui a Roma, in Via delle Fornaci, proprio a due passi dalla cupola. Quindi è comodissimo. Io ringrazio Francesca Valtorta. Grazie, grazie a voi. Ringrazio Primo Reggiani. Grazie, 19, 20, 21, 22. 19 è già passato, quindi 20, 21, 22. E Fabrizio Bordigno. Grazie, grazie. Andate a teatro. E Sandra Lessi vi aspetta sempre a teatro. Grazie per l'attenzione.